E' stato presentato ieri presso la tenuta Duca Mariliano di Capaccio il ricettario dei sapori del sole. La fortunata serie televisiva prodotta da Goi Comunicare in onda su Alice TV ha riscosso negli anni notevole successo raccontando le ricette legate ai prodotti del territorio. Da qui l'idea di un ricettario con oltre 100 ricette che parlano di tradizione, eccellenze e dieta mediterranea. Il ricettario è un po' uno spin off di quello che è il format televisivo ormai conosciuto perché siamo ormai da diversi anni in onda su Alice TV per cui abbiamo fatto oltre 100 puntate in cui abbiamo raccontato il territorio attraverso la realizzazione di ricette molto semplici perché poi quando si parte dal territorio, quando si parte dai prodotti di eccellenza il prodotto meno viene lavorato e più buono è il piatto finale. Quindi lo spirito è quello di poter realizzare dei piatti semplici da poter rifare a casa. E' chiaro che poi nei sapori del sole abbiamo anche avuto ospiti, tanti chef stellati che si sono divertiti a reinventare un po' la tradizione, però lo spirito sicuramente resta quello di creare piatti semplici, equilibrati, ispirati alla dieta mediterranea. Ecco perché poi, a fianco a me, ma neanche a farla apposta, quando si parla di dieta mediterranea viene in mente immediatamente il Parco Nazionale del Cilento di Ano e Alburni con i quali tra l'altro si creano delle continue collaborazioni proprio perché lo spirito è comune ed è quello proprio della valorizzazione e della promozione del territorio. Questo volevo dire infatti davvero un orgoglio per il territorio, per una pubblicazione così importante che racchiude tantissime eccellenze. Mi fa particolarmente piacere vedere che nel ricettario della dottoressa Rosaria Sica ci sono tanti prodotti del territorio del Parco Nazionale del Cilento di Ano e degli Alburni questo a dimostrazione di un lavoro che tante aziende e tanti produttori stanno facendo un lavoro virtuoso, un lavoro di qualità, un lavoro di eccellenza che stanno portando avanti non a caso noi come Parco li abbiamo voluti riconoscere attraverso il conferimento del marchio perché noi vogliamo creare una squadra, loro fanno parte della nostra squadra oggi abbiamo circa 100 aziende che fanno parte di questo bel gruppo e che con il loro sacrificio, con il loro impegno, con la loro passione, con la loro determinazione oggi veramente ci danno la possibilità di poter mettere in vetrina le eccellenze del territorio perché poi attraverso quei prodotti ci sono tante storie, si racconta la storia e la storia anche del territorio e la collaborazione con Cucina Sud, diretta appunto da Ottimamente, brillantemente, diretta da Rosaria Sica vuole essere questo, cioè far conoscere le aziende che oggi investono in territorio dove lo compriamo questo libro? In Edicola, grazie a una collaborazione con la di Canto SPA noi saremo in Edicola in tutta la provincia di Salerno, speriamo anche oltre per cui da domani, dal 14 dicembre in poi, in tutte le Edicole, il ricettario di Sapore Sissori poi fatecelo sapere che ha fatto un po' tardi